grandi civiltà sorsero anche lontano dalla mesopotamia e dal mar mediterraneo a partire dal 4000 avanti cristo alcune popolazioni si stanziarono lungo il corso del fiume indo che nasce dalle montagne dell'himalaya prima di sfociare nel mar arabico attraversa un vasto territorio pianeggiante la valle dell'indo aveva caratteristiche simili a quelle della mesopotamia anche il fiume indo ogni anno straripava e lasciava sul terreno un fango fertile gli indi realizzarono dighe canali e argini per sfruttare al meglio le acque del fiume l'abbondanza dei raccolti fece sì che i villaggi diventassero sempre più grandi a partire dal 2500 avanti cristo si trasformarono in fiorenti città della civiltà dell'indo non si conosceva molto fino a quando circa cento anni fa un gruppo di archeologi inglesi scoprì i resti delle città di arappa e mohenjo daro grazie ai reperti trovati è stato possibile ricostruire molti aspetti della vita quotidiana di questo popolo la civiltà dell'indo raggiunse il massimo splendore nel 2000 avanti cristo a partire dal 1800 avanti cristo il clima della regione diventò più arido e freddo e gli indi iniziarono ad abbandonare lentamente la zona infine intorno al 1500 avanti cristo il popolo degli arii invase la valle dell'indo e mise fine a questa civiltà essi arrivarono fino al fiume gange dando vita alla civiltà del gange che durò fino al 516 avanti cristo quando il popolo dei persiani occupò le loro terre gli indi erano soprattutto agricoltori coltivavano grano orzo legumi e riso e furono tra i primi a sfruttare la pianta del cotone dal quale ottenevano fili che tessevano per realizzare le poffe allevavano capre pecore bufali ed elefanti erano anche abili artigiani lavoravano la ceramica producevano utensili in rame e in bronzo e mattoni d'argilla utilizzati per la costruzione degli edifici i mercanti si spostavano via terra con i carri o caricando le merci sul dorso degli elefanti oppure via fiume a bordo di robuste imbarcazioni scambiavano i prodotti agricoli che avevano in abbondanza con metalli e pietre preziose le merci erano accompagnate da tavolette in terracotta marchiate con sigilli sui quali erano incisi segni e figure che indicavano da dove provenivano le merci e a chi appartenevano grazie al ritrovamento dei sigilli sappiamo che gli indi utilizzavano la scrittura che però non è stata ancora decifrata dagli studiosi durante gli scavi nelle città di arappa e mohenjo daro non sono stati ritrovati luoghi di culto come templi e santuari pertanto della religione che praticavano si sa molto poco dalle numerose statuette rinvenute sappiamo però che gli indi erano politeisti forse la divinità più importante era la dea madre che rappresentava la fertilità della terra credevano nella vita dopo la morte perciò nelle tombe dei defunti venivano posti vasi di ceramica che contenevano cibo e oggetti personali nelle città non vi erano tracce di palazzi reali ciò fa pensare che non fossero comandati da un re ma da un sommo sacerdote che aveva sia il potere politico che quello religioso probabilmente fu anche una civiltà pacifica poiché non sono state ritrovate armi la città di mohenjo daro sorgeva sulla riva destra del fiume indo dove oggi si trova il pakistan era divisa in due parti la città alta costruita su una collina e la città bassa la parte alta era circondata da mura comprendeva gli edifici più importanti e alcune scale utilizzate per i riti religiosi la parte bassa fuori dalle mura era suddivisa in quartieri da un reticolo di strade larghe e dritte lungo le quali si trovavano le abitazioni le botteghe e i magazzini di fianco alle strade correvano fognature e tubature che portavano fuori dalla città le acque sporche che provenivano dalle case le case erano fatte di mattoni e legno avevano piscine interne un cortile che conteneva un pozzo e un locale da bagno